I sindaci dicono no al piano antismog del comune di Avellino, o meglio dicono no allo stop delle auto. Questo quanto è emerso dall'incontro che si è tenuto questa mattina a Piazza del Popolo, dove l'assessore all'ambiente Massimo Mingarelli ha tentato di trovare un accordo con le fasce tricolore per risolvere l'annoso problema dell'inquinamento. Naturalmente i comuni dicono no al blocco del traffico, ma convengono su altre misure. Se per Avellino è un elemento fondamentale, i sindaci e i rappresentanti dei comuni limitrofi ci hanno fatto intendere che per loro rappresenta a loro modo di vedere una problematica di più scarso rilievo. È un impegno per una serie di iniziative rapide fino a fine anno, e sono sostanzialmente sugli abbruciamenti in zona agricola e sul contenimento per quanto riguarda i riscaldamenti delle abitazioni. Quindi queste sono misure, il contenimento sarà sia sugli orari e sia sulle temperature. Queste sono cose che faremo in maniera omogenea tutti insieme. E poi l'assessore Mingarelli ha annunciato una piccola modifica del protocollo. Il protocollo verrà implementato, quindi non modifiche sostanziali, ma implementato rispetto a dei punti nodali individuati più a lungo termine, perché quello che è emerso è soprattutto una progettualità di più medio, forse lungo termine, cercando di sottolineare l'importanza che hanno nelle aree interessate da questo accordo, l'importanza che hanno i trasporti.